Approfitto dello studio fermo per una veloce carrellata sulla spiegazione della strumentazione che ho usato quest'anno a Sanremo. Vi spiego giusto il routing, le chitarre entrano nella Wawa dell'Axotic, poi nell'ARC Boost che è sempre acceso per dare più definizione al segnale, poi il pedale Boss che fa la controller del volume, la pedaliera del Camper, il Preper Acustica Fishman che poi esce ed entra nella DI, poi qua immancabile la cassa Red Sound che mi serve ad avere un po' di presenza sul palco e il Camper che quest'anno è stato pilotato dal Rig Manager che mi serve per velocizzare i cambi dei banchi e per scrivere più velocemente i titoli delle patch dei singoli artisti. E passo quindi a farvi sentire qualche veloce carrellata di suoni che ho utilizzato quest'anno. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.